Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova post partita commentiamo assieme Torentino Samb 1-3 allora, primo tempo che la Samb passa in vantaggio con i midi golasso della Madonna abbastanza equilibrato il primo tempo quindi ci sta fase difensiva anche abbastanza ordinata e secondo tempo invece ragazzo Torentino ha spinto ha spinto moltissimo e praticamente il pallino del gioco ce l'avevano loro infatti sono andati vicini al gol un bel po' di volte poi hanno trovato il pareggio sull'1-1 con Massarotti un gol della Madonna un cross dalla sinistra di Alagia sul secondo palo che stava Massarotti al volo ha tirato un siluro sotto l'incrocio ha fatto gol 1-1 però comunque una Samb che si era anche difesa abbastanza bene che comunque riusciva a contenere le azioni del Torentino e è un peccato perché poi dopo ecco loro hanno continuato a macinare mi aspetto sempre qualcosa di più a livello di gioco però ovviamente il mister è arrivato da una settimana in mezzo neanche giustamente ha detto non può giocare proprio come vuole lui deve un attimo aspettare perché poi i giocatori si vede che non stanno alcuni perlomeno non stanno al 100% della forma come dovrebbero essere però speriamo di raggiungere questa forma il prima possibile e anche chi nel lato nell'intervista post gara lo ha ammesso nel senso che non sta al 100% l'anno scorso non ha giocato quindi deve ritrovare un po' un po' la forma fisica poi ecco nelle uniche diciamo due occasioni che abbiamo fatto che abbiamo creato nel secondo tempo abbiamo fatto gol il presidente sarà un sacco ha fatto morire quando mi ha detto tipo eh abbiamo imparato l'Alpineta anche l'Alpineta effettivamente ha fatto la stessa partita difensiva poi dopo cercare insomma di sfruttare le occasioni di essere cinici chi nel lato ha fatto due bei gol anche se sarò sempre un rompicoglioni lo sarò comunque fino alla fine della stagione perché è giusto così chi nel lato non mi è piaciuto tanto al livello di gioco nel senso vi spiego un giocatore come lui ed è la stessa cosa che vi ho ripetuto anche domenica scorsa dovrebbe tenere proprio il pallone far salire la squadra così e molti stop anche semplici li ha sbagliati però si è fatto perdonare con due gol dai chiudiamo un occhio almeno a sto giro senza stoffa tante polemiche però ha fatto due signori gol proprio di esperienza da attaccante vero il primo ha fatto un bel gol ha tagliato sul primo palo e il secondo uno stacco di testa preciso Moratti ha messo una signora palla una gran palla e anche se non spinge più di tanto sulla fascia come lo era l'anno scorso al Boni però ecco nella circostanza in cui è salita ha fatto un bel cross proprio preciso sulla testa di Chinellato anche Felice Felice ha fatto anche una bella partita un giocatore che a me piace lo impiegherai anche dall'inizio forse per me Proia anche quest'oggi è stato impiegato a tutta fascia ha fatto fase difensiva e offensiva magari ecco Mister Prosperi non vede diciamo quelle caratteristiche che magari può avere Proia per fare l'esterno anche se Proia come ho già detto l'altra volta lì non mi dispiace però ovviamente preferisco che sia più avanzato magari come lo è Emili ok perché è un giocatore che poi anche l'anno scorso ha fatto 7-8 gol mi pare col tre stevere però comunque è un giocatore che in mezzo al campo rende di più quello è poco ma sicuro infatti spero che prima o poi ci si arrivi a rimpiegarlo lì e che insomma si trovi uno che sulla sinistra faccia bene A Kunzo anche non mi è piaciuto A Kunzo come cazzo si chiama non so capito se ho detto la scritta A Kunzo lo so detto male può essere A Kunzo o di là sono distinta e niente così io sono contento del risultato perché dopo due sconfitte come le ultime due con il team Nuova Florida e col Pineto che veramente mi ha fatto veramente girare il cazzo oggi almeno torniamo a casa col bottino pieno in trasferta ma speriamo di tornare a vincere a Riviera già la domenica prossima sta il trastevere poi giochiamo col Porto d'Ascoli quindi ecco un po' un po' così sarà un periodo bello difficile secondo me se riusciamo a fare punti qua la classifica è ancora corta quindi le possibilità di arriva sopra ci sono ancora tra i primi posti cioè fanno il primo 14 punti mi pare quindi così speriamo bene raga noi ci vediamo al prossimo video oggi sono molto breve e niente dai continuiamo così ci vuole atteggiamento testa quando si è atteggiamento testa ci si difende bene poi per il momento se andrà avanti così tutto è ok poi ci sta pure gli avversari ci staranno lì il torrentino secondo me meritava di più però questo è il calcio però amen raga abbiamo vinto basta sto contento felice e ci sentiamo per la prossima partita vai e forza sempre